grazie siamo con stefano ciao buongiorno la gente come noi e stiamo tornando dietro c'è anche matia e christian e stiamo tornando al barco 4 dopo sei mesi io ho sei mesi che non metto appena conto sei mesi te lo ricordi quando scappavamo qui con i lacrimogeni qua su già a dire scappavamo eppure siamo dovuti scappare perché ci hanno inseguito fino fino all'ultimo ci hanno mandato via da casa nostra adesso non è che voglio di parlare non hai voglia di parlare però abbiamo portato delle rose vero franco andrea abbiamo portato delle rose come vedete queste sono il nostro simbolo per una festa perché noi qua ci siamo stati per non dimenticare e che noi non dimenticiamo qui in quelle giornate c'è stato qualcosa di grande e sai la cosa che non capisco ancora adesso non capisco l'odio delle persone verso di noi che abbiamo manifestato per la nostra libertà di scelta questo non lo capirò mai perché alla fine non abbiamo fatto del male a nessuno abbiamo solo lottato come stiamo facendo tuttora per i nostri diritti e non capisco veramente il fastidio che diamo alle altre persone questo non lo capirò mai proprio non lo capirò mai stiamo andando lo ricordo al barco 4 il famoso barco 4 con la rosa simbolo di resistenza perché noi resistiamo non ci fermiamo la gente come noi non si ferma il comitato la gente come noi e perché da qui tutto è partito e tutto è cambiato perché qui lo stato ha usato per la prima volta diciamo il pugno di ferro contro i manifestanti contro i lavoratori di preghiera si ma non è finita quel giorno lì no? non parlo per me io parlo per i demazionamenti i licenziamenti ma ne ho di qua andiamo qua i licenziamenti aspetta che lo facciamo vedere vieni aspetta che lo facciamo vedere facciamo vedere il barco questo è il famoso barco 4 qui sono i ragazzi questa è casa loro e noi dobbiamo anche questo è il triangolo dovevano chiuso le persone sì e questa è la casa nostra sono stati mandati via ecco guardate ci sono ancora le paratie che poi hanno messo altissime sono alte di tre metri qui c'è un po' da buco il parcheggio e oggi è veramente fa festezza e dolore però era doveroso sembra spettraria sembra veramente spettraria vedere queste barriere e ricordarsi quei giorni lì la nostra non è come dire noi non abbiamo rivincite con nessuno io penso che tutti anche tutti i lavoratori sia portuali che di tutta trieste rifarebbero tutto dal primo minuto io non mi pento di nulla penso che tutti noi non ci pentiamo di nulla abbiamo combattuto per i diritti di tutti credo non solo per i diritti di portuali e queste barriere sono la risposta alla nostra libertà secondo me questo è un segno veramente incredibile e io voglio mettere una rosa lì proprio su questo perché se uno guarda tutto questo grigio questo nero è allucinante questo è veramente l'ucinante ecco i ragazzi stanno mettendo una rosa sulle barriere che segnano un muro che è stato alzato perché qui è stato alzato un vero e proprio muro tra le persone non fortunatamente ma tra le persone e la polizia che è intervenuta in maniera violenta per la prima volta e poi ci sono anche le... violenta senza motivo perché noi eravamo qui per una libertà di scelta e poi non poteva andare a lavorare non c'è mai stato un momento di tensione anzi e questa è la testimonianza che in Italia dobbiamo fare ancora tanto lavoro per poterci liberare da questa dittatura e per essere liberi di scegliere perché noi abbiamo il diritto di poter scegliere avrà dato fastidio al sistema che... sicuramente Noi eravamo vaccinati e non si aspettavano che i vaccinati facessero una lotta anche per i loro fratelli ma questa è quella che dobbiamo buttare avanti perché non si tratta di essere vaccinati o non vaccinati non si tratta di essere solidali e essere qui credo di mettere in maniera la prima volta che ritorno è la stessione qua a ricordare quelle giornate di... fa male poi io dico sempre qualcuno altro poteva fare delle scelte diverse sia stati criticati ma nessuno ha detto mai a nessuno di no mentre magari la firma su quelle manifestazioni che noi abbiamo cancellato guarda io se uno era libero di prendersi a responsabilità tu hai visto tu hai visto di persona cosa stava succedendo io posso testimoniare sono stata qua tutti i giorni della manifestazione Franco stavattina a te ti venivano gli occhi lucili quando... sì effettivamente sono emozionato e... non mi vergogno neanche di dirlo perché gli sestimenti devono devono comparire per supporare sono emozionati davanti a dare le tene d'elecce che stanno fatta con le gambe delle tene d'elecce io ho visto questa stessa situazione quando queste malattie ricordo l'acqua i lacrimogeni le botte questi sono due metri e quaranta quanto sono due mete o tre metri guarda tre metri mi hanno messo proprio a partire qua in Cagliari andrei da qui e da qui non ti volevo fare il tristire però secondo me bisogna ripartire da qua noi non possiamo dimenticare poi fra una mezz'oretta saremo in centro a Trieste per presentare il libro però il libro parte da questo barco qua è partito tutto da qua purtroppo come avete visto ci sono gli eletti come essere intorno a Gabbia purtroppo anche a ben formale tornare qua sto pensando di non tornarci qui grazie per i miei colleghi perderò dei colleghi ma in questo posto credo che non ti ritornerò mai più non tornerai più al posto pensando al licenziamento e di cambiare vita non mi ritrovo più hanno attaccato dei lavoratori stavamo solamente manifestando il nostro dissenso non riesco a capire come uno stato può attaccare dei lavoratori pacifici seduti per terra che pregavano con gli idranti come hanno detto allora bassa pressione fatti male su stile con le 10 metri di voglia intanto bassa pressione un portuole ha avuto un po' di rotto me li ricordo le ho so vedere anche i ragazzini che c'erano che piangevano con gli acrimodini gli acrimodi dentro le basse le immagini dei bimbi gli anziani che cadevano è stata una cosa impressionante una vergogna una vergogna però quelle immagini quelle immagini che abbiamo fatto come fuori dal corpo le immagini restano e oggi resta anche una testatezza scritta e non solo delle immagini e credo che questo sia importante cioè io volevo dare un segnale noi siamo qui per dare un segnale che noi non dimentichiamo e non mogliamo e non mogliamo e non mogliamo e non dimentichiamo finchè non questo stato è uno stato di diritto e di solidarietà e vi faccio vedere un attimo Stefano che passeggia in solitaria guarda un po' l'altro e Stefano anche stato licenziato e credo che questa passeggiata solitaria di Stefano deve sentire non fa male 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 bene ragazzi ci vediamo Stefano ci vediamo tra poco andiamo a presentare diciamo che questa passeggiata deve sentire una stocchiera qui per le giornate potrebbero legarle perchè sappiamo cosa abbiamo messo in gioco quel giorno sappiamo la condizione in quale siamo adesso portiamo rispetto per le sette di tutti però non ci possiamo identificare di tutte le persone che adesso non sono spese non hanno neanche il pane da preparare a casa pensate che è stato solo l'inizio pensavamo che fosse la fine invece è stato solo sì e adesso dobbiamo andare avanti bisogna andare avanti bisogna andare avanti e non mollare nemmeno questo non deve creare tristezza ma anzi ci deve dare orgoglio per il fatto di portare avanti questa passeggiata esatto poi a voi si molla non si molla mai ciao ragazzi ci vediamo tra poco per la presentazione di Sospesa ci saranno appunto anche Franco, Andrea, Stefano, la gente come noi e tutti quelli che vorranno venire con noi e fare questo viaggio perchè ripetiamo siamo solo all'inizio a dopo a dopo Grazie.